Un arresto di una denuncia in Stato di libertà nei guai con l'accusa di tentato furto sono finiti un trentenne di origini romene ed un minorenne che era in sua compagnia. I due infatti hanno provato a portare via da un noto negozio di elettronica di Atripalda una serie di costosi articoli. I loro movimenti però hanno attirato le attenzioni di alcune persone che hanno chiesto immediatamente l'intervento del 112. Ricevuta la segnalazione, i carabinieri si sono portati sul posto all'arrivo dei militari. I due hanno abbandonato l'arrivo furtivo ed hanno provato a scappare a bordo di un'autovettura ma sono stati bloccati da una seconda gazzella che ha evitato la fuga dei malviventi. Condotti in caserma, i militari hanno accertato che il trentenne aveva una serie di precedenti e lo hanno dichiarato in arresto per il minorenne e scattata invece la denuncia a piede libero. L'arrivo furtivo per un valore di circa un migliaio di euro contenuta in una borsa schermata per eludere il sistema antitaccheggio è stata interamente recuperata e restituita. Sottoposta invece a sequestro all'autovettura utilizzata da due malfattori sprovvista di copertura assicurativa.